Deve mangiare un po'? Faccio qualche cosa a moto Chi mangia una volta Chi tira il bersaglio Chi vuole un aumento Chi gioca a Sanremo Chi porta gli occhiali Chi va sotto un treno Chi ha malattia Chi va a portapia Chi trova scontato Chi come ha trovato Na-na-na-na-na-na-na-na-na Ma il cielo è sempre più blu Ma il cielo è sempre più blu Chi sogna ai milioni Chi gioca ad alzardo Chi gioca coi fili Chi ha fatto l'indiano Chi fa il contadino Chi spazza i cortili Chi ruba chi lotta Chi ha fatto la spia Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Chi ha assunto alla zecca Chi ha fatto cileca Chi ha crisi interiori Chi scava nei cuori Chi legge la mano Chi regna sovrano Chi suda Chi lotta Chi mangia una volta Chi gli manca la casa Chi vive da solo Chi prende assai poco Chi gioca col fuoco Chi vive in Calabria Chi vive d'amore Chi ha fatto la guerra Chi prende il sessanta Chi arriva agli ottanta Chi muore al lavoro Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ma il cielo è sempre più blu Il cielo è sempre più blu poi c'è l'effetto chi è assicurato chi è stato ammurtato chi possiede l'amuto chi va in farmacia chi è morto di invidia o di gelosia chi ha torto ragione chi è napoleone chi grida dagli studi di Radio Roma Futuro Dario e Luca presentano Radio Perbacco dagli studi di Radio Roma Futuro Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco parleremo di vino, birra, distillati e di quello che ci pare ogni anno più o meno il 2% del whisky evapora svanisce nell'aria è chiamata alla parte degli angeli chi ha un naso sensibile? io! una degustazione al buio fruttato? Prova a indovinare potrebbe essere un Kragamore Kragamore il più incredibile dei whisky verrà messo all'asta e visto che ci sono solo tre bottiglie l'asta potrà superare il milione di sterline ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna bere solo un bicchierino solo un bicchierino non mi posso più ubriacare o mio caschetto dove ti metto ti nascondo anche sotto il letto io ti voglio sempre vicino o mio buon caro amico vino rossi, bianchi, fermi o frizzanti li voglio bere tutti quanti li voglio bere tutti quanti ma dai sono contento bevo un cilento sono stressato bevo un moscato un sombiritino un fragolino mi sento bello bevo un brunello sono spigliato noi il brunello mi sa che non lo beviamo mai ma chi ha detto? sono più cortese prediligo un sangiovese se sono birbante bevo spumante se sono pignolo bevo parolo mi sento sano bevo trebbiato sono malandrino un bardolino se ho litigato con la ragazza mi consolo con la vernazza poi me ne vado da Gabriella che mi offrirà un valpolicella dagli studi di Radio Roma Futura Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco parleremo di vino birra distillati e di quello che ci pare Radio Perbacco in onda buonasera a tutti gentile pubblico e incredibilmente sono qua non è vero con 30 minuti di anticipo è una registrazione assolutamente no vogliamo fare una prova? infitto il traffico con la moto buonasera a tutti amici buonasera Futura eccoci qua Dario come va? tutto bene? va molto bene nonostante la giornata sia stata molto 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 impegnativa quasi perfettamente in onda sento anche che la tua tosse fortunatamente io pensavo di perderti invece sei sopravvissuto ahimè per te e ahimè per voi siamo ancora da queste parti pronti a tenervi compagnia dirne quattro cinque sei anche otto dieci abbiamo tantissime cose questa sera abbiamo delle cose fantastiche intanto ne stiamo assaggiando una ne stiamo bevendo una Luca ha aperto un bianco buonissimo di cui magari poi parliamo un vermentino di Sardegna buonissimo un vermentino di Sardegna un bianco che è adatto al periodo visto che no insomma è un aperitivo sono alle sette no è un aperitivo perché servirebbe magari forse un pochino più rosso però beviamo sempre il rosso perciò prima di cena ci sta assolutamente sì Dario di che parliamo stasera? allora io intanto non me lo ricordo tu? ma perché dobbiamo fare la trasmissione? ma sì ma in effetti possiamo andare via allora stasera abbiamo come al solito un sommario piuttosto nutrito esatto un sacco di gente che vuole venire a parlare tra noi sì non ci non ci spieghiamo il motivo aspettate che Dario si sta legando col programma come al solito io sono sempre qui pronto in regia a fare danni sono sei anni che ci stanno lavorando commensurabili allora oggi abbiamo parliamo intanto di sake tu direi ma Dario ma che c'entra il sake dillo un po' Dario che c'entra il sake mi aspettavo questa considerazione esatto siccome ho letto una notizia molto interessante riguardo il Vinitaly di cui parleremo sembra che una presenza decisamente massiccia sarà dedicata al sake a proposito ma le hai comprate i biglietti per andare al Vinitaly? ne ho comprati quattro nel dubbio di smarrirli ok perciò con quello che costano esatto ok perfetto non vado a spese andiamo al Vinitaly andiamo al Vinitaly perciò ragazzi se qualcuno si vuole aggregare noi domenica è il lunedì giusto da? se non mi sbaglio domenica è il lunedì sì siamo al Vinitaly a fare gli sciocchini no andare ad imparare le cose nuove per poi per raccontare in radio tu lo sai che io mi fermo almeno tre ore in una zona particolare io mi porto una damigiana di qualcosa a parte che noi a Stiemi non dovremmo ma che ci andiamo a fallare che siamo a Stiemi? infatti guarda io non lo so vado giusto per farti compagnia che so che tu devi prendere contatti con un po' con un po' di gente per e quindi ti faccio compagnia molto volentieri allora proseguiamo poi la puntata di oggi con raccontiamo l'inaugurazione come dire l'inaugurazione di un nuovo sito nuovo neanche tantissimo oddio diciamo di sì perché è aperto un mese fa circa di cui ci parlerà la fondatrice Felicia Palumbo un sito che vende sì vino ma vende anche più che vende ispira occasioni per bere vino una cosa un po' particolare come facciamo sempre noi ma noi ci serve una domanda banale essere ispirati per bere vino non penso però vabbè non voglio rispondere poi ovviamente Luca ci intratterrà e per quanto riguarda con il Vinitaly e ci racconta un po' la DOC e DOCG che cosa sono e come e se stanno cambiando no sì nel senso che siccome sono un po' cambiate un po' cambiata la normativa siamo in ambito europeo e di conseguenza racconto qualcosa e racconto anche qualche news simpatica che sono state le prime DOC di DOCG in Italia proseguiamo poi con l'intervista canonica come facciamo a tutte le puntate l'abbiamo detto che è puntata 10 questa io non mi ricordo neanche qual è la prima qual è stata troppo prima secondo me comunque dobbiamo smettere la puntata 10 10 10 10 cioè ma dopo tutte a proposito non ci sono disgrazie oggi aspetta adesso ci colli vediamo il messaggero ok vediamo se ci dicono qualcosa qualcosa stavo dicendo visto appunto a livello di disgrazie quello che accennavi abbiamo deciso di intervistare una cantina non distante dai luoghi colpiti dal terremoto la cantina si chiama il conte Villa Prandone in realtà sta a circa 30 km da una delle zone colpite sta tra i monti i monti Umbro Marchigiani e il mare ovviamente sta ridosso più vicino al mare che non ai monti anche perché l'uva avrebbe difficoltà a crescere questa sera ascolteremo Emmanuel De Angelis che si occupa appunto all'enologo della cantina il conte Villa Prandone ma questo non è perché vogliamo sempre parlare di zone particolari ma anche capire un attimino come la vite si comporta con non certo con il terremoto ma con un freddo così ampio e magari inatteso proseguiamo poi visto che stiamo a quel punto abbiamo quasi terminato la puntata andiamo un po' come dire alla fine del pasto e alla fine del pasto è opportuno bere un distillato questa sera avremo uno dei nostri re ho scoperto che in trasmissione abbiamo spesso dei re il re dello champagne abbiamo il re dello champagne anche qui stasera e abbiamo anche il re del rum uno dei più grandi conoscitori del rum al mondo Leonardo Pinto che starà con noi e starà con noi anche in altre occasioni questa sera in particolare ci racconterà il rum di Cuba il rum di Cuba perché ci sono delle novità che dovrete ascoltare molto molto interessante va bene questo è quanto un po' di mi pare che può può andare bene no? sono d'accordo vai! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti